Lo sapevi che la prima bambola gay è stata lanciata sul mercato nel 1977? Il suo nome era Gay Bob ed era stato prodotto e messo in commercio proprio nel 1977 a New York. Creato proprio anche per aiutare le persone a fare il proprio coming out. Il primo giocattolo dichiaratamente gay. Eccolo, alto circa 33 cm, camicia di flanella, jeans satillati, stivali da cowboy, aveva anche un orecchino a lobo. In questa scatola di cartone che rappresentava un armadio con all'interno anche la possibilità di aggiungere poi eventuali accessori e alcune indicazioni su come giocarci. E' anche la possibilità di ordinare un secondo Gay Bob ad un prezzo scontato. Il creatore di questa bambola, Harvey Rosenberg, aveva creato questa bambola con le immagini di un misto tra Paul Newman e Robert Redford. Ed effettivamente somiglia molto ad entrambi. Chiaramente questo tipo di bambola ha desto non pochi problemi e qualche critica. Se non altro perché a differenza del suo, chiamiamolo, amico Ken che era nato nel 1961 e quindi un bel po' prima del nostro amico Gay Bob. Gay Bob aveva gli attributi e non era liscio come Ken. E questo naturalmente ha contribuito al fatto che diventasse più un oggetto da collezionismo piuttosto che un giocattolo vero e proprio adatto ai bambini. Tu lo conoscevi? Gay Bob? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.